Per il decreto sicurezza sono dei fantasmi, non hanno diritto all'iscrizione all'anagrafe, non hanno diritto ad alcun servizio erogato dalle pubbliche amministrazioni, clandestini in attesa di conoscere il loro destino che dovrebbe coincidere con un rimpatrio. Qualcuno come il sindaco di Palermo Orlando si è già ribellato ad alzare la testa a Messina tre consiglieri comunali, Alessandro Russo e i colleghi Zante e Sorbello, oggetto di una delibera presentata in commissione, l'istituzione di un registro comunale dei soggetti richiedenti asilo e protezione umanitaria. La proposta, scrive Russo, nasce dalla necessità di superare le previsioni dell'articolo 13 della legge 132 del 2018 che esclude dalla possibilità di iscrizione anagrafica i soggetti che richiedono asilo e protezione umanitaria, di fatto escludendoli dal godimento di diversi diritti di cittadinanza che per Costituzione andrebbero garantiti a tutti gli individui che si trovino a qualsiasi titolo sul suolo nazionale. A ciò, aggiunge Russo, si aggiunga che l'iscrizione permetterebbe di registrare le presenze dei migranti, assicurando la loro conoscibilità alle istituzioni e il loro percorso di inclusione lontano dallo sfruttamento da parte della criminalità e dal malaffare. La Costituzione, spiegano i tre consiglieri agli articoli 2, 14, 16, 24, 32 e 38, prevede espressamente che il diritto di iscrizione anagrafica debba essere garantito e tutelato poiché il suo godimento è per condizione essenziale e indifettibile per il godimento di una serie di diritti sociali e civili.